Francesco Colombarini, è stato presentato il progetto del nuovo stadio, contento, non contento? Sicuramente contento, a parte che per noi non è proprio una grossa novità, anche perché ne abbiamo discusso almeno 15 giorni fa, come abbiamo cominciato un mese fa a discuterne e adesso siamo arrivati alla presentazione dello stadio e quindi è chiaro, è un lavoro che si doveva fare. Si dovrà fare durante l'estate, quindi insomma come l'anno scorso un po' di corse? Purtroppo i tempi saranno quelli che saranno, io non lo so quelli che saranno, non ho neanche una palida idea, si faranno di corsa sicuramente. Simone Merle, hai presentato il nuovo progetto dello stadio, uno stadio più funzionale, ci vuoi un po' parlare dei dettagli che caratterizzano questo nuovo progetto e questo nuovo stadio che andrete a dare alla città e alla spalla? Si, si, guarda, verrà interamente riaperta la gradinata dando a disposizione dei tifosi Spallini 3.400 posti a sedere, verrà fatta una curva est solo ed unicamente dedicata ai tifosi ospiti da 1.500 e poco più posti, dopodiché è un restanno incomplessivo perché questo vuol dire nuovi tornelli, nuove aree di prefiltraggio, vuol dire i parcheggi per gli arbitri, vuol dire i parcheggi per la squadra, vuol dire un restanno incomplessivo di quello che è lo stadio, le aree annesse, tutto quello che è necessario per la sicurezza e i percorsi dei tifosi per fare le cose nel migliore dei modi. Due anni di lavoro in pratica perché se arriverà ai 12.000 e qualcosa di più alla fine della prossima estate, poi dopo la successiva ai 16.000. Si, i 16.000 il primo anno, tutto dipende dalla categoria in verità, perché il primo anno in deroga nel caso di promozione ce l'abbiamo a 12.500, ovviamente fornendo già il progetto per l'ampliamento 16.000 che è il numero minimo indispensabile per la categoria superiore, è ovvio che speriamo di doverli fare. E in caso, diciamo così, di categoria superiore cosa succederà? L'ampliamento viene fatto da 12.500 e da 12.000 quelli che sono nel campionato 17-18 e nel 18-19, molto probabilmente, però adesso stiamo ancora valutando, potrebbe essere chiuso l'anello, chiuso ad anello, la parte confinante è gradinata, curva est, tribuna curva est, e questo consentirebbe di ottenere quei 3.500 posti che sono indispensabili ed eventualmente valutare anche uno spazio di collegamento, però quello ancora da vedere con maggiore attenzione, tra la tribuna e la curva est. Aldo Bononesi, un progetto stadio molto ambizioso? Beh, decisamente, un progetto che ci porterà ad ampliare quella che è la capienza, a riaprire finalmente tutta la gradinata che dedicheremo ai tifosi della SPAL, con 3.500 posti in più, ma anche nuovi servizi, nuove aree ospitalità, nuovi spazi per i disabili. Il fatto di potenziare la videosorveglianza all'interno e all'esterno dello stadio ci consentirà di abbassare a 1,20 m tutte le barriere che oggi ci sono e che separano i tifosi dal campo. Insomma, uno stadio europeo, come pochi purtroppo se ne vedono ancora oggi in Italia, ma attento alla sicurezza, attento alla qualità anche dello stare allo stadio.